1500 euro ma io non ci credo ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale e nella mia automobile io sono michele e voglio spendere un attimo per rispondere a questo mio iscritto che mi ha chiesto come mai io registri video in auto e non in casa o alla caritas beh io attualmente posso registrarli solo nella mia automobile perché il mio studio un forno a casa mia non ho più la connessione e questo è l'unico luogo che mi è rimasto inoltre come il sudore forse dimostra l'auto è spenta quindi non sto inquirando e non sto violando nessuna legge almeno spero comunque ragazzi sarò brevissimo in questo video in quanto c'è davvero poco da commentare dj ha presentato il suo nuovo drone il dj avatar ad un prezzo di lancio superiore a tutte le aspettative oltre i 1400 euro per la versione bella quella completa del nuovo visore dj fpv goggles due più piccoli compatti con display oled quindi una figata da utilizzare ovviamente dj ha pensato bene di vendere questi nuovi occhiali fpv solo insieme al dj avatar e non separatamente infatti è già partita una petizione per sperare che dj cambi idea ma secondo me questa è una strategia di marketing per cercare di vendere questo nuovo drone che altrimenti non sarebbe poi così appetibile io ragazzi vi ne ho già parlato in un video dedicato questo nuovo dj avatar secondo me è un drone inadatto non è un drone per principianti costa troppo non è un drone per professionisti in quanto i ricambi sono solo originali dj non sono droni autocostruiti che noi possiamo riparare con i pezzi che vogliamo ma dobbiamo comprare unicamente pezzi dj ai loro prezzi quindi capite bene che si tratta di un drone davvero particolare è che si posiziona in una fascia di utilizzo che io non riesco a trovare come non riuscivo a trovare nemmeno per il dj fpv che infatti è stato un mezzo flop a parte le solite testate che l'hanno recensito in anteprima con termini entusiastici fantastico divertentissimo incredibile e purtroppo sto notando che la storia del dj fpv si sta ripetendo anche con il nuovo dj avatar nessuno sembra considerare i difetti di questo drone a partire dal prezzo ragazzi oltre 1400 euro costa più del dj mavic 2 cosa più del dj mavic pro platinum quelli sì che sono droni professionali adatti per tantissimi scopi e fasce di utilizzo a differenza del dj avatar e inoltre differenza del dj fpv nonostante il prezzo sia simile perdiamo i sensori anti collisione e anche in questo caso alcune testate scrivono vabbè sono inutili non sono inutili perché io se vado in panico attivo la modalità gps voglio dei sensori anti collisione quelli perdiamo abbiamo solo una parte inferiore ovvero inutili perdiamo anche il gimbal meccanico anche questa una grave pecca quindi ragazzi cos'altro posso aggiungere io continuo a nutrire tanti tanti dubbi sul dj avatar come ne nutrivo per il dj fpv voglio sapere la vostra opinione ditemi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto e se volete venite a trovarmi anche nella mia pagina facebook droni e tecnologie italia e nel mio canale telegram ufficiale tech best deal sindicati qui sotto in descrizioni video tutti aspettavamo in trepidante attesa un dj fpv mini da meno di 250 grammi invece di già è sfornato un nuovo drone senza un senso da oltre 400 grammi che quindi richiede il patentino a 2 tutto quello che serve per pilotare un drone di questo tipo grazie per la visione